Poco meno della metà dei tagliandi disponibili, 3.400 biglietti su 8.282 è già stata venduta, oggi i botteghini continuano a registrare una massiccia affluenza, per il derby contro il crotone si va verso il tutto esaurito sugli spalti del San Vito Marulla. L'ingresso è consentito ai soli possessori di Green Pass. Tira tutta un'altra aria rispetto a quella di contestazione e sciopero della tifoseria che ha scandito le giornate successive alla retrocessione. Il ripescaggio è stato quasi un miracolo sportivo, adesso completato dai lusinghieri risultati ottenuti dal Cosenza nella fase del postmercato. Zaffaroni può contare su tutti i calciatori della Rosa, l'unico costretto a svolgere allenamento differenziato per qualche acciacco fisico è stato Ciro Panico. Per il resto l'undici di partenza non dovrebbe scostarsi da quell'uscito vittorioso contro il Como. L'unica novità sarà il rientro di Palmiero, reduce da un turno di squalifica. In attacco al fianco di Govi potrebbe giocarsi una chance anche Millico, autore della rete del 2-0 contro i Laviani, ma con ogni probabilità sarà confermato invece il tandem con Caso, mentre l'ex Torino potrebbe subentrare a partite in corso. In difesa si va verso la conferma di Tiritiello, regione Weissanen, con Situ Messie, in posizione esterna a pendolare lungo le fasce laterali. La direzione arbitrale è affidata al signor Kiffi di Padova, a calcio di inizio sabato alle 18.30. Salvatore Bruno per la CNews24.